Non fatevi prendere in giro, non è né una tesi di laurea, né plagio, né nulla. E ho letto tantissime sciocchezze in queste ore, ma d'altra parte non mi stupisce mica che Salvini non sappia distinguere una tesi di laurea da una tesi di fine relazione di un tirocinio. SIS non ha mai studiato in vita sua, sarebbe strano se le distinguesse.